Sabrina Ferilli, la bella e brava attrice Sabrina Ferilli, contro la Titanus, la grande azienda cinematografica Titanus. Si va in tribunale perché la Titanus cinematografica non avrebbe mantenuto una certa promessa nei confronti di Sabrina Ferilli, la quale Sabrina Ferilli dice che per colpa della Titanus lei non ha girato un certo film e Sabrina Ferilli chiede alla Titanus la somma di oltre 700.000 euro. La Titanus invece dice che non è vero ed è la Titanus a chiedere dei soldi alla bella e brava Sabrina Ferilli. Questioni di denaro, cari amici, questioni di denaro. Si dice che il denaro faccia girare il mondo. Io la notizia di questa lite tra la bella e brava Sabrina Ferilli e la Titanus cinematografico, io questa notizia ovviamente l'ho letta sui giornali e così come l'ho letta questa notizia ve la metto come link in riassunto di questo video e sarà interessante vedere come andrà a finire questa lite giudiziaria che vede come attore protagonista il denaro. Il denaro. Quando si parla del denaro si dice patriarcato, il patriarcato perché il denaro ha a che fare con la proprietà privata e la proprietà privata è una caratteristica del patriarcato, anzi la proprietà privata è la caratteristica saliente del patriarcato. In patriarcato non c'era il denaro, non c'era il bisogno del denaro perché non c'era la proprietà privata. Le cose cambiano quando arriviamo a creare, a scoprire la proprietà privata. Il patriarcato, tant'è vero che vi ho già spiegato che la stessa parola proletario, quando noi diciamo proletario pensiamo subito a un operaio e non pensiamo al significato etimologico della parola proletario. Il proletario sì sarà un operaio ma fondamentalmente proletario significa uno che come unica forma di proprietà privata c'è i propri figli. Va bene, la bella e brava Sabrina Ferilli va contro il gigante Titanus. Vedremo cosa stabiliranno i giudici. Va bene cari amici? Beh io la notizia così come l'ho letta ve la lascio come l'igno riassunto di questo video. Certo che nonostante l'età è sempre tanto bella eh Sabrina Ferilli. Ok, ok, ok. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massimo.